Gloria a Dio. Secondo Libro dei Re. Capitolo 6, leggo dal verso 1, Dio consoli i nostri cuori con l'opera sua, fratelli. Alleluia. L'opera di Dio è quella che consola i cuori nostri, è vero? E davanti a noi abbiamo un potente miracolo. Dio ci benedica. I discepoli dei profeti dissero a Eliseo, ecco, il luogo dove noi ci raduniamo, in tua presenza, è troppo stritto per noi. Lasciaci andare fino al Giordano. Ciascuno di noi prenderà là una trave e ci costruiremo un locale dove possiamo riunirci. Eliseo rispose, andate. Uno di loro disse, ti prego, vieni anche tu con i tuoi servi. Egli rispose, verrò. Così andò con loro. Quando giunsero al Giordano si misero a tagliare la legna. Mentre uno di loro abbatteva un albero, il ferro della scure gli cadde nell'acqua. Perciò egli cominciò a gridare, ah, mio signore, l'avevo presa in prestito. L'uomo di Dio disse, dove è caduta? Quello gli indicò il luogo. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo, fece venire a galla il ferro e disse, prendilo. Quello stese la mano e lo prese. Signore, ti preghiamo che la tua parola tocchi i nostri cuori. Benedici questa adunanza che si avvicina a te, come quei discepoli che si avvicinavano a te per udire la tua parola. Ammaestraci, signore, abbiamo bisogno. Ti preghiamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. Ovviamente, fratelli, credo che ogni progresso nell'opera di Dio, credo che faccia piacere. E al Signore, che è lui il fautore di ogni progresso. Ma credo che faccia piacere anche al popolo di Dio, no? Fa piacere al popolo di Dio crescere? Credo che il popolo di Dio si rallegri nel vedere l'opera di Dio che va avanti nonostante tutto. I problemi ci saranno sempre e ci faranno sempre compagnia, fratelli. Fino al giorno del rapimento i problemi ci faranno compagnia. Dice la parola che nell'eternità, non vi spaventate, però. Dice la parola che nell'eternità il Signore asciugherà ogni lacrima. Nell'eternità non ci sarà più pianto né dolore. Nell'eternità non ci sarà più malattia, non ci saranno più, dice un bellissimo cantico, cure opprimenti. Nell'eternità potremo godere a pieno ritmo la salvezza in Cristo in ogni cosa, in ogni sfera della nostra vita. Ma fino a che vivremo su questa terra, siate anche consolati, i problemi ne avremo sempre. Uno ci lascerà e ne arriverà un altro, arriverà un altro peggiore, un altro minore. Insomma, la nostra vita sarà alternata di questa sequenza. D'altronde, se non avessimo i problemi, non potremmo dire che il Signore ci ha lasciato fedeli vicino a Lui. Se non avessimo ogni tanto, eh fratelli, dico ogni tanto, dei guai da passare, da superare, non potremmo dire gloria a Dio per la sua liberazione, non potremmo dire il Signore fin qui mi ha sostenuto, non potremmo dire il Signore è rimasto fedele, il Signore mi ha liberato, non potremmo dire il Signore è per noi una rocca e una salvezza, un aiuto sempre pronto nella difficoltà, non lo potremmo dire queste cose. Ma grazie a Dio possiamo dire altresì una cosa, che l'opera di Dio va avanti, anche in mezzo ai problemi, non che è indifferente ai problemi, perché intanto il Signore ci cura nei problemi, intanto il Signore ha cura di noi, intanto il Signore risolve i problemi, e quando non li risolve, intanto ci dà l'indicazione per poter andare avanti lo stesso. È vero, fratelli? Ma lui è il consigliere ammirabile, è quello che in mezzo ai problemi ci dice non fare così, fai così, è quello che ci dice, anziché percorrere questa strada, percorre un altro, diciamo per stare a un termine moderno, è un navigatore spirituale, visto che le generazioni di oggi vanno su questa onda, possiamo dire che lo Spirito Santo ci indica, sicuramente senza mai farci sbagliare. Ovviamente l'opera di Dio è un'opera che ci sorprende sempre, proprio perché è di Dio e non è nostra. Se fosse opera nostra, fratelli, saremmo a discutere intorno a fatti, intorno all'organizzazione, intorno all'istituzione, a come fare meglio, ma noi scopriamo che man mano che la nostra vita va avanti, scopriamo che il Signore è colui che ha il timone nella nostra vita. E lo scoprirono presto i discepoli dei profeti, che dopo diversi anni, questa scuola dei profeti che proveniva già dal famosissimo profeta Elia, erano forse una cinquantina allora, è una scuola che cresce, per la grazia di Dio. E si viene a trovare in un locale stretto, viene a trovarsi in una situazione per la benedizione di Dio scomodo. Vedete, tutti i problemi non sono sempre brutti, ci sono anche i problemi a cui fa piacere affrontare, dei problemi che forse ci rendono sereni nell'affrontare, o addirittura felici. Questi profeti che ora si radunavano intorno a Eliseo, scoprono che il Signore li ha benedetti, che il Signore è con loro, che la presenza di Dio non manca nella loro vita, e scoprono di avere un bisogno, un bisogno materiale, ma non perché materiale Dio non se ne occupa. Voi pensate che dei nostri bisogni materiali Dio non se ne occupa? Pensate che il nostro Dio è solo colui che libera, guarisce, battezza nello Spirito Santo, quanto alle cose materiali non se ne può occupare, perché Lui è Spirito? No, no, fratelli. Non sbagliamo in questo. Dio è colui che si occupa di tutto di noi. Abbiamo professato spesso che Gesù è il nostro Salvatore, ma abbiamo professato anche spesso che Egli è il Signore. È colui che è il Signore, è colui che ha fatto il cielo e la terra. I nostri bisogni spirituali sono davanti a Lui, come sono davanti a Lui anche i nostri bisogni materiali. Questa scuola, che è in un estremo bisogno, mette davanti al profeta la difficoltà che è presente. E il profeta, Elia, come Eliseo in questo momento, rappresentano, fratelli, la persona dello Spirito Santo che è a cura di loro, che non viene mai meno nei bisogni di quanti hanno creduto. Il luogo dove noi ci raduniamo, addirittura usa un termine che ci fa ripensare alla persona di Eliseo come addirittura alla persona di Dio. Il luogo dove noi ci raduniamo nella tua presenza. in tua presenza è troppo stretto per noi. L'originale dice dove noi stiamo seduti, proprio per rendere l'immagine di discepoli che si avvicinano al loro maestro per essere insegnati. Fratelli, ma noi ci sentiamo discepoli del Signore? Ci sentiamo come degli scolari? A scuola si va per imparare, è vero o no? I scolari vanno per apprendere. Noi andiamo nella presenza di Dio per apprendere le verità, per apprendere l'opera di Dio, per apprendere i benefici, la salvezza, per apprendere le grandi cose che il Signore ha preparato per noi. E questi discepoli dove si sedevano oramai sono diventati numerosi, non c'è più spazio per loro. La benedizione di Dio è potente, è presente, è vivente, e parte una richiesta. Lasciaci andare fino al Giordano. E lì ciascuno di noi prenderà una trave e ci costruiremo un locale dove noi possiamo riunirci. Ora, fratelli, vi voglio precisare, voglio insieme con voi precisare alcuni fatti in questo episodio. Innanzitutto, la richiesta che non parte da paure, ma dalla fiducia. Una richiesta che non parte da singoli, ma dalla scuola dei profeti. Lasciaci. Non è uno che si propone. È una Chiesa che vive di pari consentimento. È una Chiesa che vive avvertendo insieme le necessità. È un gruppo che vive avvertendo insieme le possibilità che hanno davanti al profeta. È un gruppo che insieme si rende conto dei bisogni. Non è un gruppo spaccato tra di loro. Non è chi avverte una cosa, chi ne avverte un'altra, chi ne avverte... È uno che si fa promotore degli altri. Lasciaci andare insieme. Abbiamo ragionato insieme. Siamo convenuti insieme. Abbiamo pregato insieme. E insieme vogliamo che l'opera di Dio progredisca. Penso che questo sia il desiderio di tutti quanti noi. È vero, fratelli? Non credo che in mezzo a noi ci sia qualcuno che non desideri che l'opera di Dio progredisca. Se c'è qualcuno che desidera questo, vuol dire che l'opera di Dio si è già fermata nella sua vita. Ma quelli che desiderano vedere l'opera di Dio progredire sono quelli che la vedono innanzitutto personalmente l'opera di Dio andare avanti nella loro vita. E la godono. E godono a tal punto che desiderano vederla anche negli altri la benedizione di Dio. Lascici andare fino al Giordano. È significativo questo fiume per il quale prendono questa decisione? È simbolico? È un fatto così? Perché era il fiume più vicino? Il Giordano ha sempre significato nella vita dell'Antico Testamento in tutti i personaggi. E in particolare questi profeti si ricordano, questi discepoli dei profeti, si ricordano che proprio nel Giordano è avvenuto con Eliseo un miracolo. si ricordano che questi che vengono dalla scuola di Elia e stanno passando alla scuola di Eliseo da lontano. Hanno visto questo Giordano aprirsi al passaggio di Elia e hanno visto lo stesso Giordano aprirsi al passaggio di Eliseo. Sono discepoli che vogliono fondare l'opera di Dio sull'esperienza dei loro padri. Oh fratelli, noi non vogliamo cambiare le cose, vogliamo che l'opera di Dio vada avanti per come ce l'hanno insegnata. Amen! Desideriamo, fratelli, che la nostra storia sia la storia di quelli che ci hanno preceduto. Non vogliamo innovazioni, non vogliamo cambiare le cose, non vogliamo, fratelli, dare un tocco di risanamento, assolutamente, non vogliamo modernizzare, non vogliamo cambiare via, non vogliamo altri fiumi, noi vogliamo la storia che ha animato i nostri padri a partire dall'Antico Testamento e che ha visto la gloria di Dio che si adempia anche nella nostra vita. Amen! Vogliamo andare a Giordano. E lì, Eliseo, ti ricordi quello che è successo tra te e Elia? E' proprio lì che siete passati. Ecco, noi vogliamo alle rive di quel fiume prendere quello che poi sarà l'opera nostra. Fratelli, ogni tanto giriamoci indietro per guardare i fratelli che ci hanno preceduto, la loro fedeltà, il loro comportamento, la loro dedizione, la loro fedeltà alle cose che forse per noi oggi potrebbero essere superate ma nel loro tempo quelle cose hanno dato vita all'opera di Dio, hanno dato vita alla Chiesa. Lasciaci andare al Giordano. Sono discepoli che desiderano avvicinarsi a quel luogo dove Dio ha manifestato la sua presenza. ma noi lo desideriamo fratelli avvicinarci a quella antica atmosfera che animava le nostre chiese dove non si andava per curiosità o chi andava per curiosità usciva convertito dove non si andava perché si andava perché di domenica bisogna andare in chiesa. Non vado dall'altra parte sono evangelico e quindi vado in chiesa evangelica. Non si andava perché bisognava in qualche maniera incontrare qualcuno oppure tanto per vederci perché se poi non mi vede il pastore non mi vede il fratello che pensa ci vado si andava per vedere Dio all'opera e Dio è in mezzo a noi amèn oh fratelli noi praticiamo questa verità Dio è in mezzo a noi non diciamo veni da noi che il culto è più bello assolutamente non diciamo vieni da noi perché ci sono tanti giovani è vero ma non lo dobbiamo dire non diciamo per invitare vieni perché c'è una buona accoglienza in mezzo a noi potrebbe ma non è questo quello che cambia la vita vieni in mezzo a noi perché c'è il Signore vieni in mezzo a noi perché abbiamo sperimentato sulle rive del Giordano che Dio ha manifestato la sua gloria vieni in mezzo a noi perché il Signore vuole fare un'opera nella tua vita noi andremo al Giordano e ciascuno di noi prenderà la una trave e ci costruiremo un locale dove possiamo riunirci vedete che la il pensiero di questa permettetemi di passare questo termine inappropriato per l'Antico Testamento il pensiero di questa chiesa di questo gruppo non è un pensiero approssimativo non è neppure un pensiero superficiale non dice andiamo al Giordano e vediamo quello che dobbiamo fare per vedere il progresso di Dio nell'opera nostra nella vita nostra fratelli abbiamo bisogno di determinazione l'epistola di Giuda non siate come le onde del mare sapete l'onda del mare che fa oggi arriva sulla spiaggia spaventando tutti e poi torna indietro e questo è il movimento dell'onda del mare avanti e indietro non è che sale si ferma lì assolutamente noi non siamo chiamati avere alti e bassi a pensare una cosa e poi a pensarne un'altra a pensare una cosa quando veniamo rallegrati da una circostanza e poi come l'onda del mare a fuggire perché è arrivata una prova e siamo impauriti impensieriti non abbiamo più voglia ci è passato tutto lo zelo tutto il fervore assolutamente qui c'è determinazione in questo gruppo li prenderemo non dice vedremo ci consiglieremo è una chiesa che è determinata nel voler vedere la prosperità nella sua vita noi siamo determinati desideriamo avere questa determinazione e questa determinazione fratelli nasce ovviamente io direi dal desiderio nessuno sarà mai tanto determinato se prima non c'è un desiderio forte che brucia dentro un desiderio fratelli che non trova riposo se non nella realizzazione della promessa di Dio se non nella volontà di Dio se non si realizza nella volontà di Dio prenderemo una trave oltre a manifestare determinazione manifestano anche il senso della responsabilità prenderemo una trave cioè ognuno di noi nessuno di loro qui dice armiamoci andate nessuno di loro dice tu prendi la trave io prendo i ferri tu prendi la trave io prendo il ramo no ognuno di noi prenderà una trave il senso della responsabilità di ogni figlio di profeta che anima tutti incondizionatamente nessuno di loro si lamenta per la sua situazione nessuno si lamenta perché c'è il mal di schiena nessuno si lamenta perché gli fa male il braccino o il ditino nessuno di loro noi prenderemo una trave nessuno di loro fa il calcolo del peso di quella trave perché sanno che davanti a loro c'è uno che li sosterrà c'è uno che interverrà c'è uno che li aiuterà lì prenderemo una trave e la trave era un albero tagliato ovviamente non tagliato a pezzi un tronco tagliato a tutti i rami tolte tutte le foglie tolte la radice rimaneva e ognuno di loro sotto ovviamente lo sforzo e il desiderio ma gli sforzi sapete quando riusciamo a farli fratelli quando c'è desiderio è vero che non ci fermiamo davanti a niente quando c'è desiderio e questi avevano il desiderio il desiderio di vedere questa scuola ingrandirsi scuola di profeti il desiderio di accogliere altri il desiderio di vedere Eliseo in mezzo a loro che poteva allargare il suo messaggio ad altri insegnare ad altri e questo era importante per loro lì noi prenderemo una trave questa trave noi la prenderemo al Giordano noi desideriamo costruire sull'esperienza di chi ci ha preceduto anche sull'esperienza miracolosa di chi ci ha preceduto l'opera di Dio è un'opera di miracoli fratelli e noi vogliamo andare avanti per la fede in Cristo Gesù Amen noi vogliamo sperare nel Signore continuamente questi sono così determinati hanno un bellissimo senso di responsabilità che li porterà a realizzare la cosa infatti loro diranno andranno a chiedere a Eliseo questa cosa e Eliseo di fronte a questo desiderio di fronte a questa determinazione di fronte a questo senso di responsabilità che viene ovviamente queste tre caratteristiche accomunano tutti i discepoli dice andate l'approvazione di Dio è importante fratelli che nei nostri desideri ci sia l'approvazione di Dio è importante non che il profeta ci dica andate ma che il Signore dice sì lo voglio e il Signore può dire sì lo voglio non di fronte a un gruppo diviso il Signore può dire sì lo voglio non di fronte a chi ognuno ha un desiderio per conto suo che magari si contrappone all'altro si oppone in tutta la forza con un altro il Signore può manifestare la gioia della sua approvazione di fronte a un gruppo desideroso di fronte a un gruppo determinato spiritualmente ovviamente motivato di fronte a un gruppo che conosce il pieno senso della responsabilità la quarta caratteristica è speciale sì ma Eliseo tu devi venire con noi vieni con noi è importante fratelli che la presenza di Dio sia sempre con noi è importante fratelli che noi preghiamo che la presenza di Dio non manchi mai in mezzo a noi che i nostri culti non diventino mai surrogati che non diventino mai fratelli dei piatti preparati sughi pronti vogliamo sempre la freschezza dell'unzione di Dio in mezzo a noi amén oggi se voi andate nei supermercati che tra l'altro a me questi sughi piacciono molto ma se andate voi trovate tutti i sughi pronti cose che prima ci voleva magari due ore per prepararli e voi li trovate in un barattolino basterà fare una cosa che anche noi fratelli sappiamo fare la pasta dopo averla colata attentamente buttiamo sto vasetto dentro e possiamo dire ho fatto non so il sugo ai funghi porcini l'ha fatto il carrefour il sugo ai funghi porcini noi abbiamo fatto la pasta e no Dio non vuole il Signore non vuole che la nostra vita cristiana sia qualcosa di pronto qualcosa di surrogato qualcosa che venga dietro la preparazione artificiosa tutto ben costruito tutto fatto tutto al punto giusto tutto come se sapessimo già le cose come devono andare come andranno a finire come saranno Eliseo vieni con noi Mosè per condurre il popolo di Israele ebbe l'ardire di dire al Signore da qui noi non ci muoviamo eppure il Signore aveva detto un angelo andrà davanti a voi noi da qui non ci muoviamo se tu non vieni con noi tu quale angelo quale grazie ti benediciamo per gli angeli bene è una cosa bellissima avere gli angeli cherubini che ci aiutano nell'opera di salvezza che ci liberano dai problemi è bello bellissimo ma noi vogliamo la tua presenza noi vogliamo la presenza di colui che è salito sulla croce per i nostri falli noi vogliamo vedere l'opera di salvezza in mezzo a noi e Eliseo ti prego vieni con noi e di fronte a questa richiesta Eliseo disse verro e questa è la disponibilità di Dio fratelli a stare con noi del continuo io sarò con voi fino alla fine dei tempi alleluia vogliamo andare avanti senza timori senza paure Gesù è con noi è al nostro fianco ci guida ci porta avanti fratelli è lui è lui che ci indica ogni cosa è lui che ci mette davanti le situazioni da superare come superarle il salmo 73 mi sembra dice tu mi guiderai per il saggio consiglio non mi ricordo se è il 73 o meno so che tu mi guiderai con il tuo saggio consiglio e chi è la guida fratelli è Gesù oh ti prego Eliseo vieni con noi andate e così andò con loro e soltanto la sua presenza dava sollievo dava allegrezza non andò a dare una mano andò con loro e voi immaginate che per mezzo di questa presenza loro si sentivano approvati erano felici sapevano che il loro lavoro non è era inutile non avrebbero mai detto adesso vuoi vedere che tagliamo le travi arriviamo lì e Eliseo dice che avete fatto no perché era con loro noi vogliamo ringraziare Dio fratelli perché dice l'epistola di Paolo ai Corinzi che la nostra fatica non è vana nel Signore grazie a Dio per la sua presenza in mezzo a noi e grazie a Dio per quanti si affaticano per l'opera di Dio per l'Evangelo per il progresso dell'Evangelo Paolo si rallegrò quando seppe che la chiesa che lui aveva fondato con le sue mani era nel pieno progresso dell'opera di Dio noi vogliamo fratelli che l'opera di Dio sia appieno nel progresso non per le nostre capacità ma per la presenza di Dio in mezzo a loro e poi a un certo punto successe una cosa molto interessante iniziarono a tagliare la legna mentre uno di loro abbatteva un albero il ferro cadde dalla scure nel Giordano un incidente di percorso sembra quasi fratelli che a noi non ci debba mai capitare nulla perché siamo figli di Dio e invece gli incidenti cadono anche nella nostra vita i fermi cadono anche nella nostra vita i blocchi ci sono anche nella nostra vita cristiana delle brave parentesi di dispiaceri arrivano anche nella nostra vita sembra quasi che alcuni vivano la vita cristiana sotto una campana di vetro finché non avviene niente bene benissimo Dio è con noi io sono con lui poi quando avviene qualcosa e invece che fa questo servo corre subito dal profeta e che poteva fare Eliseo è caduta nel fiume il Giordano era anche in piena che dovevano fare come faceva a farlo come faceva a recuperare quell'arnese come faceva ad andare avanti dopo questo impedimento e noi sappiamo una cosa fratelli lo sappiamo dalla parola di Dio che il Signore è colui che sovviene ad ogni nostra necessità e sovviene miracolosamente Dio compie per il suo popolo miracoli incredibili meravigliosi miracoli che dal punto di vista della nostra ragionevolezza fratelli non possiamo mai comprendere succedono nella nostra vita cristiana non so a voi ma a me succede che delle cose accadono che siamo soltanto in grado di rimanere a bocca aperta e di attribuire fatti al Signore a cui appartiene la gloria in eterno oh questa ascia cade e corre e dice una cosa che a me personalmente ha interessato molto non so a voi ma proverò a dare la spiegazione mentre uno di loro abbatteva la scura e cade e gli cominciò a gridare mio Signore l'aveva presa in prestito questi costruiscono un locale e manco gli arnesi sono i loro sono andati a chiedere in prestito e sì l'opera di Dio non va avanti per le proprie forze va avanti per lo spirito di Dio fratelli questi forse non avevano nulla di loro ma avevano l'approvazione di Dio l'aveva presa in prestito non ci avevano manco gli arnesi per tagliare gli alberi a volte fratelli sembra che per fare dei passi dobbiamo chiamare ragionieri dobbiamo per vedere se tutto corrisponde alle nostre possibilità l'opera di Dio è un'opera di fede è Dio che la porta avanti ed è un'opera che ovviamente fatta i suoi conti necessari non deve essere necessariamente sottomessa alle possibilità ma deve essere sottomessa all'intervento di Dio che è prioritario rispetto alle nostre possibilità io l'avevo presa in prestito e l'uomo di Dio disse dove è caduta quella gli indicò il luogo allora Eliseo tagliò un pezzo di legno vi voglio ricordare che lì è caduto un pezzo di ferro prende un pezzo di legno lo getta nel luogo dell'ascia questo pezzo di legno scende immediatamente l'ascia provate a immaginarle che è a terra sul fondale scende il pezzo di legno e si va a depositare sotto l'ascia voi provate a immaginare che il pezzo di legno alza l'ascia si mette sotto e poi la porta a galla non è una favola di esopo fratelli questa è la parola di Dio Dio fa delle cose che noi non ci possiamo aspettare inattendibili perché l'opera di Dio è miracolosa e voi provate a immaginare che questi discepoli tutto avrebbero immaginato ma non che quest'ascia salisse per mezzo di un pezzo di legno sotto e non è simbolico se qualcuno pensa che c'è un simbolismo no c'è un fatto storico e sapete questo perché è avvenuto perché i discepoli sono andati a costruire vicino al Giordano sono andati a cercare le esperienze che Eliseo e Elia avevano fatto sul Giordano e Dio ha concesso loro le stesse esperienze fratelli cerchiamo la faccia del Signore e il Signore compirà in noi per noi proteggi cerchiamo la faccia del Signore noi vedremo continuamente l'opera di Dio nella nostra vita vedremo fatti gloriosi inattendibili sicuramente i discepoli si aspettavano che da un momento all'altro uno di loro magari si spogliasse si buttasse nel Giordano e iniziava magari a tastare il terreno per le proprie capacità magari un buon nuotatore un buon sub vediamo prendiamola perché la dobbiamo ridare e Dio non ha bisogno fratelli delle capacità umane per portare l'opera di Dio quando bisognava ricostruire il Tempio nel libro del profeta Zaccaria mentre i sacerdoti mentre i leviti mentre Israele diceva allora cos'è che dobbiamo fare dai dicci quello che dobbiamo fare ci pensiamo noi arriva la profezia non è per potenza e non è per forza o per eserciti ma per lo spirito mio dice il Signore gloria a Dio vogliamo ringraziare il Signore perché l'opera di Dio è guidata dal suo spirito l'opera di Dio è generata dal suo spirito e l'opera di Dio è condotta dal suo spirito amene siamo contenti fratelli perché noi siamo l'opera di Dio e se noi desideriamo che quest'opera progredisca dobbiamo fratelli rimetterla nelle mani di Dio dobbiamo dire al Signore Signore portala avanti perché tu sei il capo dell'opera tu sei il nostro pastore tu sei quello che ci può indicare ogni cosa ma ricordiamoci anche di una cosa fratelli ricordiamoci di non mancare nei desideri riguardo al progresso dell'opera di Dio di non mancare riguardo alla determinazione che dobbiamo avere nell'opera di Dio non fiacchezza determinazione ricordiamoci di non mancare fratelli di fronte al senso di responsabilità a cui ognuno di noi è chiamato ognuno di noi è una pietra è su è un tempio una casa è fatta di tante pietre non puoi toglierne una pietra rischia di cadere tutto l'edificio ogni pietra ha la sua innegabile importanza proprio tu che ti senti inutile o ti senti uno tra i mille tu proprio sei chiamato probabilmente a sostenere una parete per mezzo della tua forza sei chiamato forse non a sostenere una parete ma essere un punto di riferimento per la costruzione sul quale continuare ad andare avanti ricordiamoci del nostro senso di responsabilità e ma ricordiamoci anche di un'altra cosa fratelli intorno al quale gira tutto e intorno al quale giriamo tutti è la presenza di Dio in mezzo a noi cerchiamola con tutto il nostro cuore annunciamola predichiamola quando invitiamo diciamo chiaramente che Dio è in mezzo a noi e che compie meraviglie e che vuole parlare diciamolo senza vergogna e soprattutto facciamo in modo che non manchi mai la presenza di Dio mai perché per mezzo della sua presenza noi otterremo prosperità e progresso alziamoci all'impianto preghiamo desiderio determinazione senso di responsabilità per vedere il progresso dell'opera di Dio ti senti tu responsabile di quest'opera? qualcuno dirà no credo che sia il pastore il consiglio di chiesa ad avere questa responsabilità no non è così l'edificio su cui poggia l'opera di Dio lo dice la Bibbia è la chiesa e la chiesa e la chiesa siamo io e te c'è desiderio nella tua vita per vedere il progresso di quest'opera? che tipo di desiderio c'è? c'è nella tua vita determinazione? o c'è fiacchezza non c'hai voglia lasci fare agli altri voglio ricordarti che uno si fece promotore di tutti lasciaci non disse lasciami lasciaci andare e tutti andarono c'è senso di responsabilità nella tua vita cristiana per quest'opera? lasciaci andare a prendere una trave ognuno di loro nessuno dovette guardare nessuno dovette prendere altro ognuno di loro prese il peso di quell'opera forse faticoso forse piuttosto corposo ma lo fecero perché fratelli dinanzi all'opera di Dio non possiamo tirarci indietro è bello collaborare Paolo proprio ci chiama collaboratori per la costruzione di questo edificio c'è c'è chi pone il fondamento c'è chi ostruisce c'è chi lo finisce ma ognuno è chiamato a fare qualcosa nel campo di Dio vogliamo pregare perché il Signore possa toccare i nostri cuori e poi accanto al desiderio alla determinazione al senso di responsabilità Dio non venne meno il Signore di fronte a queste cose non viene mai meno non può venire meno la sua presenza fu costante davanti a quella costruzione e la sua presenza provvide anche a compiere miracoli davanti a queste cose Dio non resta fermo egli è colui che compie i prodigi per noi preghiamo il Signore qualcuno